Per rispetto nei suoi confronti e verso i cittadini si aspettava una vera presa di posizione da sindaco Seri, Davide Rossi, chiamato in causa come possibile nuovo capo di gabinetto del primo cittadino. Per questo motivo fino ad oggi ha preferito rimanere in silenzio durante il puttiferio politico, come da lui definito. Poi oggi ha deciso di parlare e spiegare come sono andate realmente le cose. Ci siamo visti a pranzo e in questo pranzo lui mi ha raccontato delle difficoltà che sta incontrando in una situazione di governo, difficoltà che sono penso sotto gli occhi di tutti e quindi pensava che potesse essere utile un rafforzamento della sua segreteria e mi ha manifestato il desiderio di portarmi con sé nella sua segreteria perché pensava che per le mie qualità professionali io potessi essere utile al suo lavoro di sindaco. Io la mia disponibilità l'avevo data perché pensavo che questo potesse effettivamente essere utile alla città dove vivo il lavoro e poi si è scatenato il puttiferio politico che tutti hanno visto in questi giorni. E quindi adesso che cosa ha deciso di fare? Io credevo che come nelle altre città il sindaco avesse anche a Fanno la prerogativa di scegliersi le persone di sua fiducia all'interno della segreteria ma evidentemente a Fanno non è così quindi siccome a me sta a cuore la mia città io mi ritiro la disponibilità che gli avevo dato allora e diciamo in questo modo lui sarà più libero di nominare una persona che è più funzionale agli equilibri politici della coalizione. Ma resterà completamente fuori dalla scena politica o in qualche modo si rimetterà in campo? Io sono in questo momento privato di cittadino da oltre un anno, non è che ci sono persone per tutte le stagioni. Prendo atto di una cosa da cittadino, che questa città avrebbe bisogno di un sindaco con coraggio un sindaco che fosse libero dai condizionamenti partitocratici quindi avrebbe le condizioni per essere un sindaco coraggioso. Vedremo se da qui in avanti le avrà, altrimenti è chiaro che a Fanno dovranno esserci altre novità politiche.